Il Centro Studi Ateneo è una scuola di danza, canto, musica, recitazione e musicolo con un teatro annesso, il Teatro Ateneo. Per l'anno 2019, dopo l'ottimo riscontro della scorsa stagione, riproponiamo un programma più completo e incisivo. Pausa palco e la rassegna 2019 del Teatro Ateneo. Avremo quattro appuntamenti. Inizierò io l'11 gennaio, il 15 febbraio la compagnia Sinespazio, l'8 marzo la compagnia Nervitesi e per concludere il 12 aprile il collettivo Poetic Punkers. Il programma formativo RecStudio è stato inserito con l'intento di coinvolgere i giovani danzatori del territorio nella performance della compagnia invitata. Noi vi aspettiamo e... Ragazzi... Pausa palco!